Un messaggio inviato alle 12.50 al telefono di un'amica il cui testo lasciava presagire l'intenzione di un estremo gesto da parte del mittente, un 45enne di Son Gavazzo non nuovo a simili situazioni, metteva in moto la macchina dei soccorsi. Lo scomparso raggiunta la zona di San Lucio, località posta a monte del territorio di Clusone, una volta parcheggiato il furgone della ditta per la quale lavora, faceva perdere le proprie tracce, abbandonando all'interno del Vito Mercedes due lettere di cui non si conosce il contenuto. Sul posto con l'ausilio di fuoristrada le prime squadre di vigili del fuoco giunte dal vicino distaccamento cittadino che raccolte informazioni da amici e parenti giunti con tempestività iniziavano le prime perlustrazioni in attesa di supporti giunti da Gazzaniga e Bergamo ai quali si univano squadre del soccorso alpino, unità cinofile e carabinieri della compagnia di Clusone. Il territorio particolarmente vasto complica le ricerche mentre cresce la preoccupazione dei parenti dell'uomo, altezza 1,85 m, capelli castani che conosce molto bene la zona.